Gentili telespettatori, buona giornata. Facciamo una riflessione che può sembrare banale. Enrico Letta rifiuta il dialogo con Matteo Salvini, ma la domanda semplicissima è questa. Se non vuole Salvini, perché non se ne va dal governo? Perché non va all'opposizione? Perché questa bramosia di stare al governo? Beh, attenzione, il PD è anni che governa senza vincere le elezioni. Questa volta è arrivata al potere su invito dei grillini che non volevano andare a casa disoccupati. Dice, chi c'è che può mantenere in piedi il governo? Solo il PD. Benissimo. Ma voi non eravate nati per combattere la casta identificata nel PD? Ma chi se ne frega, qui si parla di stipendio? Uè, si parla di stipendio. Va benissimo il PD, va benissimo il PT, il PC, il PPPP. Qualunque cosa va bene, piuttosto che perdere quei famosi 13.000 euro di accredito mensile. È come dargli torto. Ma la domanda, ritorniamo alla domanda principale. Ma Letta, se non vuole dialogare con la sua stessa maggioranza, dovrebbe andare all'opposizione. Che ci fa ancora in maggioranza? Perché dice Salvini esca dal governo? Perché non esce lui? No? Cioè, va, una domanda banalissima. Nessuno sa perché Letta e il PD stanno al governo. Il partner più importante della maggioranza è Matteo Salvini. Matteo Salvini è il primo, secondo partito, ancora non si è capito bene. Insomma, primo partito non solo nel centrodestra, ma in Italia. Quindi Matteo Salvini è il partner obbligato di dialogo con il PD. Se il PD dice io non parlo con Salvini, vuol dire io non parlo con la maggioranza, cioè non c'è dialogo e quindi se non c'è dialogo perché il PD non esce e va all'opposizione a raccogliere qualche deluso? Magari gli fa compagnia anche Conte con i 5 Stelle e così andiamo a votare finalmente. Così vediamo dopo mesi di sondaggi, il sondaggio di qui, il sondaggio di là, andiamo a vedere dei voti reali perché poi quando si voterà alle comunali non possiamo neanche prendere buono il voto a Bologna, il voto a Napoli, il voto a Milano e dire il partito X ha queste percentuali perché sono elezioni comunali. Sono elezioni comunali. Come fai a prendere per buono l'elezione a Milano o l'elezione a Napoli o l'elezione a Roma? Eh, non si può. Matteo Salvini chiede di parlare delle leggi con Letta. Gli ha detto vediamoci entro martedì, ne parliamo e approviamo ste leggi facendo delle modifiche concordate tra di noi. Niente da fare. Letta con una spocchia incredibile dice no, io con Salvini non ci parlo. Prima deve prendere le distanze ufficialmente da Orban perché Salvini è inaffidabile. Lui con Salvini non ci parla, io non ci parlo con lui. Beh, è un tratto anche di maleducazione istituzionale. Se tu sei in una maggioranza, devi, devi parlare con gli altri partiti. Non puoi dire io non ci parlo con quello lì. Ma non ha senso. Enrico Letta, tu che sei rimasto alla politica di 25 anni fa, lui si immagina ancora la sinistra contro Berlusconi, lui quando vede Salvini vede la figura di Berlusconi. Lui è fermo alla discesa in campo di Berlusconi, le televisioni, Rete 4, e invece no, Caroletta, sei veramente inadeguato come politico, non solo come capo politico, ma proprio come politico. Però un'altra riflessione che dobbiamo fare è questa. Perché voi vedete politici adeguati in questo momento? La maggior parte è gente che è lì, per diversi motivi, ma è gente che è lì. Viene intervistata in televisione, viene invitata, parla nelle radio, fa le interviste sui giornali, ma sono dei passanti. Cioè il primo che passa lo metti in politica e poi gli fai le interviste. Ma tu cosa ne pensi? Così Letta preferisce affondare le leggi bandierina anziché mettersi seduto a parlarne con chi sostiene lo stesso governo. A questo punto è una pagliacciata quella di Letta, come la dobbiamo chiamare. Se ti prendi la responsabilità di fare un governo di ampie vedute, di tutti, vi ricordate che continuava Letta a dire Salvini dovrebbe uscire dal governo perché lui, 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 lui. Ma che lui, lui, lui. Sei tu che ostacoli questo governo. Non è Salvini. Sei tu che ostacoli questo governo. E se ti prendi la responsabilità di partecipare, hai anche il dovere di contribuire a sciogliere i nodi e a parlare con gli altri. Come? Tu che ti definisci democratico. Noi siamo i democratici e gli altri chissà. Come? Il democratico che non parla con gli altri. Con lui non ci parlo. Allora che democratico sei? Il democratico è una persona che parla. Si confronta con le altre persone. Tu ti confronti con Salvini, mostri le tue idee, le tue opinioni, dici caro Salvini, io la penso così, 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 per me non si può fare. Ma il problema è che lui non ha un così, così, così. Lui non sa che dire, non ha nessuna motivazione. Avete capito il perché? Che brevemente abbiamo parlato anche in un altro video di questo. Chi sostiene lo stesso governo non può diventare un soggetto da scacciare, un politico con cui non si discute. Perché la domanda diventa, ma che ci stai a fare al governo con lui? Perché non esci? Draghi, dalle indiscrezioni, ha già affrontato il comportamento di Enrico Letta, proprio con Enrico Letta dicendogli basta, basta, te l'ho già detto, basta con questa cosa di fare l'antisalvini. È una roba infantile. Certo Draghi non gli avrà detto, ti stai comportando in maniera infantile, ma gliel'avrà fatto capire tra una battuta e un'altra. Ha detto, basta, ma che significa sta roba? Ma Draghi è anche consapevole che Letta deve cercarsi un'identità. E' in cerca di un'identità per se stesso come capopolitico e per il suo partito. Ha bisogno di dimostrare di essere vivo, Letta, senza rendersi conto che precipita sempre di più nel gradimento dell'opinione pubblica. ha una seria difficoltà a comprendere perché due leader politici non debbano parlarsi. È tutt'altro che uno statista Enrico Letta, ma lui vorrebbe dimostrare di esserlo. Vi ricordate che con la campanella di Renzi, stai sereno, lui ha preferito l'esilio alla patria, me ne vado in Francia, ci sono rimasto male. E' arrivato Renzi e mi ha detto, ma stai sereno Enrico, stai sereno, non ti preoccupare. E lui va in Francia. Vado via, non mi piace più questo paese. E adesso privilegia lo scontro al dialogo. E questo sarebbe un capopolitico di un grande partito? Bah, arrivederci a tutti.